La nostra gita di oggi prevede un giro sull'Ace Square, abbiamo preso il metrò, noi siamo sul Russell Square, quindi una fermata, quattro fermate di metrò e siamo diretti a fare un po' di shopping. Prima tappa sarà M&M's World e poi Lego Store e poi vedremo la parata del primo dell'anno. Siamo arrivati all' M&M's Store, andiamo a farci un giretto. Grazie a tutti. E questo è il muro gigante per colore di tutte le M&M's. Grazie a tutti. Dove abbiamo comprato ovviamente di M&M's e due tasse. E adesso invece passiamo da M&M's a Lego, che sono poi uno di fronte all'altro, non è difficile trovarli sull'Ace Square. Qui dentro tutto è in Lego. Allora andiamo al secondo piano. La prima cosa che si vede è questo plastico e questa è la riproduzione in Lego di Londra. Bellissima. La parte carina poi è che qui ci sono a disposizione i Lego e i bambini possono liberamente mettersi a giocare. Ecco qua c'è una postazione, ovviamente Aurora si mette a giocare. E l'angolo per i più piccini con i pezzi più grandi, Lego duplo. Il campo lavoro cos'è che abbiamo costruito qua? Cos'è quello? Un campo da calcio. Un campo da calcio, Aurora ha costruito un campo da calcio. Aspetta che ci metto un campo da calcio. E mettiamo anche gli omini a giocare. Vanessa cosa hai costruito? Lei mi sembra che abbia costruito un piccolo da gioco. Non si sa. Bene, adesso giochiamo a calcio e quindi... Poi ovviamente ci sono i Lego. Cos'è quello? Il bus. Wow, un sacco di pezzi abbiamo visto. Questa che è bello. Si può prendere i mattoncini, quelli che si vuole, per costruire. Alla fine di Lacer Square si trova sulla destra, per la passeggiata che stiamo facendo, la porta di Chinatown. Camminando siamo arrivati a Piccadilly Circles. Qui ci sarà la parata di inizio dell'anno, non di fine anno. Anche a Iwaki. Anche a Piccadilly Circles. Grazie a tutti.